bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente da pochi minuti sono andati online i server di fortnite questo vuol dire che le sfide della settimana numero 5 sono finalmente disponibili un bel po di stelline per il pass battaglia per noi che l'abbiamo acquistato per te che lo hai acquistato andiamo ragazzi in questo video subito a vedere la stellina da recuperare seguendo la mappa che vedi lì trovata a boschetto bisunto se non mi inganna la stella ragazzi dovrebbe essere qui esattamente nella parte della base segreta dei nemici dei supereroi che con le due finestre e con le scale va a formare un teschio ci scendiamo ragazzi andiamo a vederla e se siamo fortunati se ci ho visto giusto riusciremo anche subito subito a sbloccare il primo un livello extra del pass battaglia perché vi ricordo ragazzi che trovando la stella segreta guadagneremo ben 10 stelline che vuol dire un livello appunto del pass battaglia allora andiamo a vedere subito vedo che siamo anche fortunati perché il il bus passa praticamente vicino a dove c'è la stella segreta credo che molte persone ci andranno giù adesso essendo appunto online i server da pochi minuti vediamo se partirà l'ignoranza come al solito sembra davvero ragazzi che abbiano migliorato con l'update un pochettino il il focus chiamiamolo lo zoom della quando zoomiamo la mappa la qualità quando troviamo la mappa ok ci stiamo per arrivare siamo praticamente prossimi ci stiamo per passare e ci gettiamo proprio adesso andiamo ragazzi giù di prepotenza verso la base dei supereroi del dei nemici dei supereroi e dovrebbero esserci dovrebbe esserci qua la stellina scendiamo proprio qui davanti dovrebbe rimanere questo è un teschio lasciamolo scendere qua vediamo se c'ho azzeccato vedo che ce n'è un altro ed eccola qua ragazzi ed eccola qua parte ignoranza troviamo subito la stellina ragazzi parte ignoranza che loro si buttano già giù di prepotenza vediamo un po che cosa oddio sono la buona valerina a questi che queste non prendo solamente la stellina così niente c'è un po di casino e moriamo giustamente così fa niente ragazzi l'importante era a morire perché potrebbe non darvi la stellina e ragazzi se uscite dal gioco potrebbe non darvi la stellina quindi ragazzi andiamo a prenderci subito il livello extra del pass battaglia e poi ci salutiamo io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video vi ricordo di condividerlo con tutti i vostri amici su tutti i vostri social e noi ci vediamo in live ciao